Camillo D'Alessandro, il prossimo 28 e 29 marzo torna ad Orsonia la rievocazione dei Talami, una manifestazione importante che incrocia la fede e la tradizione. Assolutamente sì, è una di quelle manifestazioni che danno il cognome alla nostra regione, nel senso che dei Talami si sa tanto, non si sa tutto, però è una manifestazione che accoglie centinaia, migliaia di persone non solo dalle parti di Orsonia ma da tutto l'Abruzzo e non solo. Attraverso e con i Talami io credo che la regione Abruzzo possa costruire e aprire riflettori importanti su questa manifestazione, noi affianchiamo l'idea non solo della continuità ma anche dell'innovazione nella tradizione.